Sara Di Filippo, il Tavagnacco esce sconfitto dal campo di Roma, qual è la tua lettura di questa partita? Abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo state cattive nel fare gol, questa è l'unica grossa pecca di questa partita. Loro nell'unica azione che hanno fatto ci hanno castigato e sta qua la differenza tra noi e la Roma. Roma che adesso vi ha raggiunto in classifica, siete tutte e due appaiate con 8 punti, come sta andando questo campionato del Tavagnacco? Sicuramente non come speravamo ma bisogna resettare tutto e pensare semplicemente a salvarsi che è quello a cui dobbiamo puntare noi ora. Questa è stata una brutta battuta d'arresto sicuramente ma insomma cercheremo di fare di tutto per tirarci fuori da questo momento. Ultima cosa, anzi quanto hanno pesato le assenze? Sicuramente le assenze di Brumannac, Lelland e Sardu si sono fatte sentire soprattutto in fase realizzativa. Però insomma quelle che hanno sostituito le ragazze devono saper sfruttare l'occasione e farsi trovare pronte. Purtroppo oggi non è stato così. Grazie.